La puntata di ieri di Affari Tuoi se la ricorderanno in tanti e a lungo. A tirare i pacchi, alla ricerca del premio più ambito da 300.000 euro, due sorelle provenienti dal Trentino Alto Adige. Non c'è stata, ve lo diciamo subito, nessuna vincita incredibile. A tenere banco, piuttosto, sono stati i commenti sui social nei confronti delle due concorrenti. Concorrenti che già Amadeus aveva pizzicato in apertura di puntata quando la concorrente Carmela aveva raccontato di avere origine, il conduttore, nel presentare la sorella, ha detto, abbiamo Calogera, scherzando sulle radici che le vengono dal papà siciliano. La battuta di Amadeus è stata accompagnata da una fragorosa risata in studio e da un sorriso da parte delle due concorrenti. Poi è stato il momento di giocare e la situazione si è fatta più. Estratto quasi subito il pacco 300.000 euro, Carmela e la sorella sono arrivate alle ultime battute con tre pacchi, 0 euro, 15.000 e 100.000. Il dottore offre alle due sorelle concorrenti un contentino da 17.000 euro. Martina rifiuterebbe ma decidere è Carmela, che accetta pur di non tornare a casa a bocca asciutta. E qui si scatenano le critiche in tempo reale dei telespettatori sui social. Con 17.000 euro ci fai un funerale doppio. Li mettono da parte per quello forse, si legge su X. Questa partita mi ricorda quando il dottore offrì 20.000 euro e nel pacco c'erano 200.000 invece, scrive un utente. Il dottore di affari tuoi è un buon giocatore di poker. Gifano